Arezzo ancora una volta capitale della fotografia vintage. Domenica 15 ottobre torna infatti Foto Antiquaria, la storica mostra mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche che ormai da 37 anni è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Dalle 9 alle 18 le loggie Vasari in Piazza Grande accoglieranno oltre 40 espositori provenienti da ogni parte d'Italia che daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere la ricerca di pezzi radi ed introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare un'antica fotocamera. Non mancherà poi una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico. Nata nel 1986 e prima in Italia, Foto Antiquaria propone due appuntamenti annuali uno in primavera e uno a fine estate ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche.